Un rapporto da fan innanzitutto e un rapporto da in qualche modo persona consapevole che il cinema fa parte del grande cambiamento del digitale e che questo cambiamento lo deve rafforzare e non indebolire. Penso che siccome l'Italia è un grande talento creativo, è un grande anche talento produttivo, questi eventi giganteschi globali non debbono renderci più poveri, debbono difendere le nostre aziende, il lavoro per il cinema e la creatività italiana che resta in vetta nel mondo. E grazie per questa onestà intellettuale, grazie a lei. Saluti e baci.